Sapevi che su Telegram un messaggio importante puoi pinnarlo, metterlo in alto alla chat perché sia sempre visibile e raggiungibile più velocemente? Puoi farlo sia su una chat normale, sia sui gruppi, sia su un canale, se amministri un canale Telegram. Per farlo dovrai entrare nella chat, selezionare il messaggio che vuoi mettere in evidenza, tenere premuto sopra e puoi scegliere dal menu PIN. In una chat normale potrai metterlo in evidenza e in cima solo per te o per te e l'altro partecipante. Nei gruppi potrai metterlo in evidenza per tutti e decidere se notificarlo a tutto il gruppo. Sui canali potrai metterlo in evidenza semplicemente per tutti e tutti riceveranno la notifica. Seguimi per altri consigli sulla tua vita digitale.